buongiorno mi chiamo claudio micro skater buongiorno io non sono italiano sono chileno, un pelo feo, non vedo nada un paio, un paio, un paio, un paio, un paio, un paio, questo dure un minuto o meno alti, un pongo una musica incidental, bonita o un titolo feo, no se, vamo a vedere che posso fare nel minuto questo è un jardin, e qui ho avuto la prima prova di questa camera che mi prest ho un amico che conosco da 7-8 anni se supone che questo dovrebbe durare un minuto un po' più o meno sto tratando di aprendere a fare documentali a fare cose che tenia che camminare di qui me vengo che questo è lo più cercano a la naturalezza che ho non credo che... quanto tendrà non lo so 10 m2, 20 m2 meno in realtà sono dei mali per le matematiche non mi interessa filmare il sole filmare il vento è quello che è è molto è una camera liviana piccata, antica però non ricorda la mia infanza è una camera la prima camera è che la luce salia tutto la Sony V8 no, non è V8 è un formato è un formato del mediato del 90 dopo la crisi non so come ho chucho ho una camera in mano poi passaron harti crisi e ho di diverse cameras è un formato è un formato è un formato è un formato che è un formato io ho potuto non c'è nulla come stai gravato non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è come come un punto o non c'è non c'è mmm mmm esta es una salida carajo. hay que decir algo que esta a crecer me vi eso un verde fosforescente un blanco antes era celeste eso verde fosforescente reloj antico repubblica di siria si un vuelo cuadro malo del living torero buona torero mi sento come la pendeja de me hacha no, sakura galca mi sento la situazione che andava con su camera i 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